Io mi chiedo ma perché si deve rovinare lo scudetto dell'Inter? Finalmente questa squadra che è dotata di grandissimi calciatori, di una rosa straordinaria, sta rendendo per quello che vale e sta conquistando giustamente lo scudetto a son di gol con un cammino che sta schiacciando chiunque. Perché rovinarlo con dei favori che ora con il VAR sono necessariamente dei favori che si vedono larghi, veramente quanto era larga la distanza tra la maglia e la mano del giocatore inquisito, in questo caso De Vrij che tratteneva l'avversario e cioè l'attaccante della squadra del Sassuolo Raspadori. Era evidentissimo il calcio di rigore, ma il sistema arbitrale fatto di reverenze, lo abbiamo sempre detto, ma non di sudditanza psicologica, di sudditanza e basta, permettete di dirlo, che sono. Alcuni arbitri purtroppo hanno questo atteggiamento di reverenza nei confronti delle grandi e finiscono per mettere in discussione lo scudetto dell'Inter e il sistema arbitrale. Due cose contemporaneamente, perché fanno perdere di credibilità a tutto il sistema arbitrale, che non è tutto così, e fanno contemporaneamente perdere di credibilità a quello che è un successo che l'Inter legittimamente sta conquistando. Il fallo su Raspadori era il fallo che ha avviato l'azione in contropiede dell'Inter per il gol di Lukaku. Ci dovevano essere degli arbitri di grande personalità per riuscire a capovolgere il sistema e dire non l'ho visto, anche se poi era difficile anche non vederlo, e a quel punto annullo il gol e do il rigore al Sassuolo. Sarebbe capovolgere quel momento. Non se la sono sentiti. È mancata la personalità, è mancata la capacità, è mancato quel rigore e quella determinazione che un arbitro, un giudice, deve sempre avere in qualsiasi contesto, ma nello sport ancora di più, perché stiamo parlando teoricamente di quello che deve essere l'esempio per tutti, la metafora perfetta. Lo sport dovrebbe essere l'educazione che si applica alla società. E invece no, perché gli interessi sono forti, perché le dinastie si sentono, perché comunque sia si ha paura delle polemiche, perché un rigore o un gol annullato all'Inter non è un gol annullato al Cagliari, un rigore non dato al Sassuolo non è un rigore non dato all'Inter. Quindi ci sono dei pesi che vengono utilizzati dal punto di vista psicologico, ma anche per quella che riguarda la carriera, perché chiaramente un errore contro l'Inter, anche nel sistema arbitrale, vale certamente per la Cagnara che crea, un rigore contro, molto di più di un rigore non concesso ad un'altra squadra. O, parlo di Inter, Juventus, un rigore negato alle potenti, perché sullo stesso piano ci mettiamo tutte quelle grandi squadre che hanno potenza all'interno del mondo mediatico in particolare. E qua ci si entra un po' tutti. Quindi non roviniamo questo scudetto all'Inter, lo sta meritando, ma se c'è un rigore per il Sassuolo la prossima volta fischiamolo, tanto poi segnano dopo.